Stamattina verso l'una sono stato derubato, sono venuti due persone, sono entrato dalla finestra perché la finestra forse una deve essere aperta perché non sono entrati dalla scala ma sono saliti sull'armatura che stanno facendo la facciata, facciata che ci hanno qua trovato, quattro mesi. Sono entrati dentro i due, mi hanno buttato sull'età perché io ho sentito il rumore e mi ero alzato, questi signori mi hanno buttato sull'età, mi hanno dato un sacco di pugni, mi hanno legato le mani, mi hanno legato i piedi e la bocca che io non potevo neanche respirare e mi hanno chiesto di avere i soldi. Io non sapevo, ma toggetti le mani, fa mettere i soldi se tu non mi fai parlare e loro dicevano sempre i soldi. Arrivato a un certo punto che uno mi chiedeva, mi ha stretto, mi hanno legato i piedi, mi hanno legato le mani e quell'altro è girato per tutte le camere per vedere se c'erano soldi. Ma soldi che c'erano nei cassetti sono stati 1.000-1.500 euro. La cina per la torta dei pantaloni e me l'ha legato perché era una firma, una come il campo. Nel frattempo una vicina di casa che l'ho chiamata più volte, telefonata ai carabinieri, perché io il telefono non ce l'avevo più, perché avevo tre telefoni e me l'hanno rubato. Allora ho chiamato i carabinieri che poi sono venuti.